perché evidentemente fuma già a una qualità e questa è una cosa che non so ancora come affrontare ma immagino che nel chat dei tutori ci sia chi ha già questa esperienza e mi potrà aiutare. Ecco no, poi mi avevo preso dal punto, quando facevo il giudice dell'immigrazione questo sempre perché è come in fondo gli italiani sono meglio di tanti altri. Ho capito perché i migranti non vogliono stare in Grecia, non ci passano e cercano di scappare, perché